Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24, i principali titoli del nostro telegiornale. Le ASL calabresi sono le ultime in Italia a pagare i fornitori. Ponte Cannavino, ANAS installa un nuovo sistema di monitoraggio. Migliorare il sistema di allerta meteo se ne è discusso alla mezza terme. Le Fiat 500 del club di Reggio Calabria presenti alle festività mariane. In apertura dunque la questione legata ai ritardi dei fornitori nel comparto sanitario bollino nero per le ASL calabresi. I pazienti inoltre continuano a lamentare carenze costanti nei servizi. Sanità calabrese è costantemente sotto la lente di ingrandimento e se il commissariamento pluriannale ha di fatto solo alzato il livello di scontro politico tra il governo regionale e Massimo Scura. Dall'altro persistono ancora quelle mancanze e carenze di servizi che i pazienti continuano a denunciare da tempo. E poi ci sono gli studi, le analisi impietose che numeri alla mano mostrano in tutta la loro drammaticità una situazione di sostanziale emergenza. È il caso ad esempio dei pagamenti dei fornitori con la Calabria che occupa stabilmente gli ultimi posti. A guidare la classifica, il negativo è secondo lo studio di Asso Biomedica, la federazione delle aziende del settore dei dispositivi medici, c'è infatti l'azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, di fatto il pergio pagatore d'Italia, 682 giorni per onorare una fattura, quasi due anni di attesa per i fornitori di ospedali e cliniche d'Italia. Ma dei 57 miliardi di debiti delle amministrazioni pubbliche più di un terzo, 20,6 miliardi è verso le imprese che lavorano con il servizio sanitario. Una lista nera quasi tutta monopolizzata dalla Calabria. Al secondo posto, dopo Catanzaro, ci sono l'ASL Napoli 1 centro con 444 giorni, seguita dalle aziende sanitarie di Crotone, Catanzaro e Cosenza. E se al primo posto invece c'è l'ASL 5 di Spezzino è la Lombardia che ha i tempi d'attesa più bassi, 71 giorni, con un debito ad oggi di 173 milioni di euro. Lo scoperto più alto, 220 milioni è del Lazio, con 139 giorni per incassare una fattura. La Sicilia impiega 171 giorni e la Calabria si conferma a fanalino di coda con 340 giorni, in media per un pagamento e un debito di 187 milioni. E' stato installato dall'ANAS un ulteriore sistema di monitoraggio sul viadotto Cannavino sulla strada statale 107 Silana Crotonese. Nell'ambito delle attività di monitoraggio programmate sul viadotto Cannavino sulla strada statale 107 Silana Crotonese, meglio conosciuto come il ponte di Celico, ANAS ha installato un ulteriore sistema di monitoraggio ad integrazione di quello esistente in funzione H24. Il sistema in caso di vibrazioni o cedimenti eccessivi della struttura registrati dai sensori in monitoraggio continuo consente l'accensione immediata della luce rossa sulle lanterne semaforiche installate agli ingressi del viadotto, impedendo in tal modo il transito di qualunque mezzo di trasporto sul ponte. Si ricorda che ANAS ha completato sul viadotto Cannavino gli interventi di prima fase che hanno mirato a migliorare il transito eliminando gli avballamenti presenti sulla soletta e riducendo le vibrazioni subite dalla struttura al passaggio dei mezzi pesanti. L'intervento di seconda fase per un importo complessivo di 4 milioni di euro prevede l'adeguamento sismico della struttura e avrà inizio nei primi mesi del 2019 con una durata massima di otto mesi. ANAS ha investito nel monitoraggio del viadotto Cannavino 300 mila euro l'anno. Le indagini eseguite con interferometri hanno avuto inizio a settembre del 2016 mentre i monitoraggi eseguiti in orario notturno a traffico chiuso con strumenti topografici sono iniziati da un anno e vengono effettuati almeno ogni 10 giorni. Gli interventi e monitoraggi del viadotto Cannavino rientrano in una strategia programmatoria che terminerà nel 2019 con ulteriori interventi di manutenzione sugli altri viadotti della strada statale 107 Silana Crotonese e sul ponte Morandi di Catanzaro. Anche il sistema di allerta meteo e la tragedia di Civita alle gole del Raganello sono state al centro della discussione tenuta alla mezzaterme nel corso della tre giorni organizzata dalla protezione civile della regione Calabria. Vediamo com'è andata. Non si poteva non fare riferimento ai fatti di Civita al raduno regionale della protezione civile della mezzaterme con il capo dipartimento Angelo Borrelli che è ritornato in Calabria proprio dopo la vista nel Pollino poche ore dopo la tragedia. Non casuale infatti la presenza del sindaco di Civita Alessandro Tocci ma in attesa di sviluppi sul banco degli imputati resta il sistema di allerta meteo. Non lo chiedono i sindaci calabresi, lo voglio e lo vogliamo come sistema di protezione civile. Il primo obiettivo che ho indicato al Presidente Conte il 13 di giugno quando ho inviato un documento al Presidente su quelle che dovevano essere le linee programmatiche dell'azione del Dipartimento della Protezione Civile, del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al primo posto vi è una piattaforma nazionale di allertamento proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini in primis e anche dei sindaci che oggi hanno la responsabilità diretta di informare i cittadini. Quello che devo dire è che ci deve essere un governo del territorio con una pianificazione comunale di protezione civile efficace. Noi lo sappiamo perché Carlo Tanzi è dal primo momento che si batte per questo discorso di avere delle pianificazioni di protezione civile aggiornate conosciute dal territorio sulle quali andremo a innestare questo sistema di allertamento. Quindi non parlo della vicenda di Civita della quale abbiamo già parlato ma parlo in generale di quello che deve essere il futuro di questo territorio del nostro Paese. Il Presidente del Consiglio Ministri vi posso dire la sera in cui si sono verificati i tragici eventi di Civita mi ha chiamato e mi ha detto dottore noi dobbiamo fare qualcosa per evitare che in futuro si ripetano queste cose e quello che faremo è mettere in piedi un sistema di allertamento. Poi oggi ne parleremo anche nel corso del nostro incontro qui in Auditorium. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Gioia Tauro dove i cittadini lamentano una totale degrado. Non c'è niente, è tutto abbandonato. Ha bisogno di un sindaco, ha bisogno di tutto, la collaborazione dell'amministrazione comunale perché è uno schifo, è uno schifo totale Gioia Tauro, è pieno di dimondizi, di strade rotte, non si capisce niente più, siamo in un caos, che si deve dire? De tutto, non c'è niente più, hanno distrutto Gioia Tauro, tutti i vecchi politicanti e poi da quando ci sono i commissari Gioia Tauro è distrutto su tutte le cose. Ma non è colpa dei cittadini più che dei commissari? C'è anche la colpa dei cittadini perché la fanno per dispetto, gli buttano la passatura nelle strade perché non c'è polizia, non escono a raccoglierla e quindi gliela buttano nelle strade, a volte la buttano pure ed è pronta al comune. Dobbiamo cercare di far cambiare la situazione ma non siamo solo noi a farla cambiare, noi puntiamo tanto e non quanto. Non c'è cittadini pure che sporcono la cittadina? Sì, secondo me pure, non c'è collaborazione, è vero, questo è vero perché non c'è civiltà. Però se c'è controllo, se c'è controllo, c'è più controllo? Certo che ci vuole più controllo, è quella la cosa principale, ma qua non c'è né controllo. Anche il comune di Dipignano nel Cosentino è diventato cardioprotetto grazie all'acquisto del defibrillatore. A Dipignano settembre significa prevenzione, da oggi infatti anche il comune del Cosentino è cardioprotetto. Merito dell'impegno dell'assessorato alle politiche sociali, grazie al quale, su proposta dal consigliere Andrea Giannotta, sono stati installati tre defibrillatori, uno per ogni frazione del comune. Dunque un'iniziativa importante di quella in grado di salvare vite umane che si è conclusa con una dimostrazione pratica sull'utilizzo di questo importante strumento. L'idea nasce soprattutto grazie all'evidenza scientifica e i dati statistici, i quali ci dicono che per quanto riguarda l'arresto cardiocircolatorio bisogna intervenire in un lasso di tempo molto breve, un massimo di 10 minuti, ma prima si riesce a intervenire e le possibilità di sopravvivenza si possono raddoppiare o addirittura triplicare. Il progetto comune cardioprotetto mira proprio a questo, ad avere un defibrillatore H24 365 giorni l'anno a portata di mano e con degli operatori in grado di utilizzarlo nel modo giusto può fare davvero la differenza tra la vita e la morte. 70.000 morti all'anno in Italia per infarto cardiaco, di cui 50.000 per infarto e di cui il 25% risolvibili con l'uso del defibrillatore. Naturalmente noi abbiamo cercato in tutti i modi di mettere nelle nostre tre piazze importanti questi defibrillatori per dare un impatto ai cittadini di sicurezza, sia per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini in ogni borgo, in ogni incontrata e sia per i cittadini che il periodo estivo ci raggiuncono come turisti. A Reggio Calabria, come ogni anno, il programma legato alle festività mariane è davvero molto fitto. In Piazza Duomo decine di Fiat 500 si sono radunate grazie al club di zona che non ha voluto mancare all'appuntamento. Ogni anno, questo è il sesto anno consecutivo che grazie all'amministrazione comunale, al sindaco tutta, diciamo che siamo presenti a scopo gratuito qui per il sesto anno consecutivo. Una devozione alla Madonna. Sì, questa è una devozione alla Madonna che sta continuando in anno e diciamo che ogni anno abbiamo un gran successo, soprattutto di pubblico, tanta gente che viene a fare foto e quant'altro e diciamo per noi è una cosa che soprattutto per me, per il Club Italia a livello nazionale è una manifestazione importante. La presenza di amici siciliani che sono venuti da Milazzo qui per dare omaggio a questa manifestazione, per dare omaggio alla Madonna e diciamo che ogni anno io sono veramente contento di questa bellissima iniziativa che facciamo assieme al Comune, grazie al Comune che ci dà e al sindaco che ci dà il patrocino e l'autorizzazione di svolgere questa manifestazione qui a Piazza Duomo. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto più tardi per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e buon pomeriggio a tutti voi. Grazie a tutti.